Io credo che bisognerà, se vogliamo un'Europa che funzioni davvero e che sia più vicina ai suoi cittadini e alla missione che abbiamo dato all'Europa sin dalla fondazione, serve una nuova maggioranza, serve un nuovo approccio, serve esportare in Europa il modello italiano dove il Partito Popolare dialoga e governa insieme ormai da decenni strategicamente, non per un episodio, non per convenienza elettorale, con i partiti di ispirazione conservatrice e identitaria. Questo è il modello vincente che i cittadini non a caso hanno fortemente apprezzato in Italia e anche se sarà difficile scardinare la logica dei numeri e gli attuali equilibri che da un paio di decenni vedono un innaturale connubio tra socialisti e popolari che dovrebbero invece essere forze politiche tra di loro alternative, però questo è il lavoro che io credo che dovrà fare il gruppo dei conservatori e che Giorgio Meloni continuerà a fare con o senza l'appoggio diretto o meno alla nuova commissione.